no non parlo con gli economisti mai è una perdita di tempo farò un'eccezione con lei perché mi sembra un cattivo economista ascolti io in realtà non sono questa è la regola io parlo lei ascolta niente domande non conosco il suo caso ma capisca questo c'è solo un caso una sola situazione quindi non mi faccia perdere tempo se fa attenzione forse impara qualcosa staremo alle regole così faremo più in fretta qualche opzione bene allora cosa vuole voglio sapere io ho le galline e lei pomodori io voglio pomodori e lei le uova che facciamo uno scambio un semplice scambio per esempio un uovo per ogni pomodoro così erano le cose all'inizio è chiaro che i suoi pomodori a volte erano buoni a volte no o se volessi comprare un cavallo e non abbia molto chiaro quante uova mi servano ma se prendiamo come riferimento per esempio un po d'oro l'oro è bello luccica e non ce n'è molto ed è prezioso così possiamo fare una tabella di conversione se una dozzina di uova valgono una pepita d'oro e un cavallo 100 pepite è facile capire che un cavallo equivale a 100 dozzini di uova semplice no l'oro si converte così in moneta di scambio per semplificare siccome non possiamo comprare un cavallo con le uova si cambiano le uova in moneta e si aggira all'ostacolo bello vero questo è il primo passo tutto è più o meno uguale all'inizio solo che ora abbiamo bisogno dell'oro per comprare le cose che non produciamo latte carne vestiti attrezzi infine la persona che ha creato il sistema a un edificio un posto dove l'oro viene immagazzinato dove noi lo possiamo ottenere quella persona è un altruista certo non ci vuol vendere l'oro gli basta prestarcelo per esempio a me da dieci monete e me le lascia in prestito per un periodo di 12 mesi mi chiede solo un piccolo interesse è logico mettiamo che sia il 10 per cento così lui rischia il suo oro e io non rischio nulla perciò lui avrà bisogno di una garanzia nel caso che io non rispetti l'accordo le spiacerebbe sbattere un po di più quelle arance sono per una spremuta nel suo caso se lei vuole dell'oro le ipotecherà il suo orto così l'uomo le presta 10 monete d'oro in cambio delle sue carote no no lei rimane con la sua produzione di carote e pomodori non si deve disfare di nulla e può continuare a commerciare deve solo restituire alla banca 11 monete d'oro dopo un anno e 10 che le hanno prestato più l'interesse come farà beh ho l'orto e posso vendere tutti i miei prodotti lei ha un anno di tempo e se non mantiene l'accordo la banca si prenderà il suo orto d'accordo qual è il problema c'è un problema non c'è problema qual è il problema immaginiamo che la banca possieda un totale di diciamo 100 monete d'oro che è la quantità totale d'oro esistente 100 monete non una di più oltre al buon uomo esistono altre 10 persone lei io un fabbro una sarta un poliziotto e via dicendo 10 persone in totale tutti abbiamo bisogno di oro per comprare e tutti abbiamo chiesto un prestito 10 monete ciascuno per un totale di 100 monete si è perso? certo che no il banchiere ci ha dato tutto il suo oro con assoluta generosità in cambio di cosa un semplice 10 per cento una monetina per persona è giusto però infatti però secondo pitagora abbiamo un problema se in 12 mesi dobbiamo pagare 11 monete ciascuno da dove le prendiamo 11 monete per ognuno fanno 110 monete questo significa che ci sono 10 monete di interessi che non riusciremo mai a pagare mai qualunque cosa accada non ci sono problemi la banca è stata creata per facilitare le cose non per complicarle c'è una soluzione ragionevole non si preoccupi pagatemi solo gli interessi una moneta ciascuno vi aspetterò il prossimo anno pagherete la quantità prestata inizialmente le prime 10 monete insomma avanti ciò nonostante ciò nonostante se paghiamo una moneta ce ne rimarranno 9 9 ciascuno allora se ancora dobbiamo pagare 10 monete alla fine dell'anno ci ritroveremo con lo stesso problema e in più avremmo meno denaro esatto una moneta in meno rispetto allo scorso anno se andiamo avanti così per altri 10 anni sempre che ci lasciano pagare solo gli interessi alla fine rimarremo senza niente spariranno tutte le monete e nonostante tutto avremo ancora il debito iniziale da pagare la banca avrà recuperato tutto l'oro noi non avremo nulla ed avremo ancora il debito iniziale da pagare 100 monete tra tutti noi che non potremo pagare mai semplicemente perché non esistono cosicché perderemo le terre il bestiame e gli alimenti che abbiamo ipotecato all'inizio come garanzia dieci anni fa in dieci anni la banca riavrà tutti i suoi soldi più tutte le nostre proprietà mentre noi non avremo niente assolutamente più niente come dire che in pratica saremo diventati schiavi della banca e perché per niente e in cambio di niente inserente la banca e la banca riavita ma per Grazie a tutti